La sentenza di Garlascola, girandola dei sospetti, abbiamo anche il commento di Feltre e Laparietti, cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioli e vacanze di Natale. Buongiorno, questa mattina naturalmente ci occupiamo sempre del contesto, il contesto è quello di un'Italia spezzata, di un'Italia confusa, di un'Italia che sta cercando di entrare nella fase 2 e ne parliamo tra poco, però intanto noi dobbiamo affrontare anche l'attualità, l'attualità di ieri, dell'altro ieri e ancora di oggi è l'attualità che riguarda la giustizia perché anche la giustizia ha dovuto affrontare i problemi di emergenza del Covid, in particolare l'ha affrontata nelle carceri, prima fase, grandi rivolte nelle carceri, grandi paure di contagi nelle carceri, paure anche giustificate ma non soltanto per i detenuti, intendiamo anche per gli agenti di custodia, per la polizia penitenziaria, abbiamo sentito spesso gli agenti qui dire anche noi dobbiamo avere degli apparati di difesa come quelli che hanno tutti, le mascherine, le cose e poi c'è un problema di distanziamento, nelle celle è difficile il distanziamento soprattutto per il sovraffollamento, però questi sono problemi dell'amministrazione penitenziaria ma qua adesso il caso è scoppiato perché sono stati rimessi in libertà alcuni detenuti, tra gli altri ieri Repubblica commentavamo con Klaus Davi il numero degli 8300 che sono accusati di reati di criminalità organizzata che sono stati messi in libertà, c'è stato un grande caso in Parlamento, per la verità in Parlamento i casi sono stati, per la verità nella politica i casi sono stati due, uno in Parlamento ed è un caso che riguarda il Ministro e queste scarcerazioni, l'altro non è un caso parlamentare ma riguarda il Ministro per la polemica col dottor Di Matteo che ha fatto una polemica retrodatata risalente a due anni fa. Parliamo di tutto, però torniamo sulle cose di oggi e cioè Bonafede ieri ha annunciato che sta preparando un decreto per riportare in carcere quelli che sono stati tirati fuori. Ora ci sono anche delle considerazioni su questo da fare, però non le voglio fare io, voglio una spalla importante che è Attilio Bolsoni, l'abbiamo sentito più volte, lui lavora da anni da Palermo, di queste cose si è occupato in tutte le fasi, nella fase della ricerca dei latitanti, delle carcerazioni, ora anche delle scarcerazioni, quindi noi lo sentiamo volentieri, siamo collegati. Si è messo male, Attilio ti sei messo male, anche te, come succede a tanti, perché hai la luce alle spalle e quindi sei più scuro di quanto vorresti. Se solo riesci a stare più di profilo, ecco, se solo fai questo sei illuminato e sembri meno, come dire, ecco, perfetto, bravo. Perfetto, perfetto, un giorno di risposta. Grazie, adesso c'hai una luce più piena. Voglio sentire intanto il tuo commento sulle ultime cose, e cioè quello che ieri ha pubblicato Repubblica e tu hai commentato, io l'ho pure letto, il commento l'ho pure detto qui, perché mi piaceva questa tua idea che lo Stato fosse in confusione, che ci fosse uno Stato di grande confusione nell'emergenza e che quindi nulla è stato fatto, forse, per una impostazione ben precisa, ma tutto si è un po' accavallato e quindi questo ha provocato anche delle disfunzioni. Però voglio sentire come la pensi te oggi. Allora, buongiorno. Intanto sono in confusione anch'io, devo dirti, direttore. E lo credo. Perché è una storia che non capisco fino in fondo. Non capisco fino in fondo. Ci sono cose che mi sfuggono. Una cosa ce l'ho, penso di avercela chiara. Questo Ministro della Giustizia è inadeguato. Sì, però non basta. È inadeguato ed è una... Non basta. Dall'altra parte, i giudici di sorveglianza applicano la legge. Terzo punto. Il DAP è una macchina troppo farraginosa. Il carcere non sono solo i detenuti al 41bis e in alta sicurezza. E i detenuti in alta sicurezza e al 41bis non sono tutti ergastolani. E poi la ricostruzione tardiva del dottore Di Matteo. Questo è accennato a... Scusa, Antidio, questa teniamola un attimo da parte. Teniamola un attimo da parte. I primi punti che hai elencato sono l'elenco preciso anche dei miei dubbi e delle mie confusioni. Allora, partiamo dalla prima. Ministro, inadeguato, io sono convinto da molto tempo. Però, ora che hai scoppiato questo caso, una cosa è inadeguato. Ma tu questo lo mettevi in luce anche ieri. Una cosa è inadeguato, una cosa è, come si può dire, connivente, colpevole, uno che ha organizzato, scogitato, trattato. Io questo non lo penso. Non lo penso. E credo che non lo pensi neanche te. Buonafede non è il tipo che si fa intimidire, minacciare. Anzi... Anzi non si parlo. Eh? Eh, vero? Anzi, secondo me è inadeguato... Andiamoci piano. Andiamoci piano. Esatto, perché è comparso sui giornali come se fosse... Che ho perso. Eh, come se fosse, dice, ecco, adesso si è messo d'accordo perché ha avuto paura dei boss mafiosi. Secondo me lui non ha proprio... Cioè si è trovato travolto in questo meccanismo, ma non ha proprio nemmeno sfiorato quest'idea. Non lo so, eh, però è una mia idea. Io non sono un suo ammiratore. La penso come te. È inadeguato, però... No, no. Anch'io non sono un suo ammiratore, ma per carità, dire che è acceduto alle pressioni dei boss al 41 bis è una cosa gravissima. Non sta né in cielo né in terra e soprattutto senza elementi, senza indizi. Io credo che sia veramente surreale dire questo. Un conto è esprimere un giudizio politico sul ministro e sulle sue capacità nel gestire non solo il ministero della giustizia, ma in un momento faticoso e complicato come questo, il coronavirus, le strutture sanitarie dentro le carceri che non funzionano. È una cosa da ridere il colluso. Mica gli possiamo dare il colluso al ministro. Sulla base di che cosa, direttore? No, sulla base di niente, sulla base di nulla, su questo concordo, e ti ho chiamato perché ho letto il tuo commento proprio di ieri e che apre strada. Quello che hai detto invece è molto interessante. Il DAP, le figure dei detenuti, non sono mica tutti i 41 bis i detenuti. Ci sono detenuti ammassati nelle carceri che hanno reati comuni, non sono ergastolani, come hai detto giustamente, hai ricordato, e c'è un problema dei detenuti nelle carceri. Ma mi sembra ancora più importante l'altro punto che hai toccato, perché diventa importante anche oggi. Cioè ci sono dei magistrati di sorveglianza che hanno l'ultima parola, no? Allora oggi questo fatto che il ministro dice, beh ho fatto il decreto, ora faccio un decreto che li rimetto tutti dentro, mi sembra che passi un po' sulla testa della magistratura. Da un certo punto di vista potrebbe paradossalmente provocare delle proteste, no? Cioè di magistrati che dicono, un momento, quale decreto? Decidiamo noi, quelli che devono, no? È il mandato di cattura del governo, te lo ricordi, no? Abbiamo una certa età per ricordarcelo. La situazione è completamente diversa. Febbraio del 91, l'ammazza sentenze, Sua Eccellenza Corrado Carnevale, non aveva congelato i termini di custodio per 43 boss del primo maxiprocesso a Cosa Nostra, che uscirono nel febbraio. Io ricordo che andai a Lucerdone davanti, mi ricordo il primo mafioso che uscì era Pieruccio Senapa, che era considerato uno dei sicari della Fosca di Corso dei Mille, mi disse, per me il giudice Carnevale è buono come Papa Giovanni, l'aveva fatto uscire, no? Poi in gran segreto, consigliato dal dottore Falcone, che era direttore degli affari penali, fecero il decreto e li ripresero tutti i boss. A Palermo lo chiamarono il mandato di cattura del governo. Quindi non più il mandato di cattura dell'ufficio istruzione, ma del governo. Naturalmente qua la situazione è un po' diversa, però si sta riannunciando, quasi 30 anni dopo, un altro mandato di cattura del governo per i pasticci fatti prima. Perché sono stati fatti i pasticci. Ecco, ma questi pasticci, sono stati secondo te pasticci pensati centralmente o sono stati pasticci che si sono organizzati per i rami in modo separato anche uno dall'altro? Questo tengo a... E si sono accumulati, eh? E si sono accumulati in un unico numero, che poi è quello di quelli scarcerati. Voglio sapere la tua opinione su questo. Da quel poco che ho capito, non c'è una regia del pasticcio. Esatto. Non c'è una regia, una trama del pasticcio. Non credo che ci sia una regia del pasticcio, la trama del pasticcio. Credo che ci siano, si siano accumulati in vari rami dell'amministrazione giudiziaria una serie di pasticci. Il primo caso, se vi ricordate, è quello di Bonura, Francesco Bonura. Il boss scarcerato, condannato mi pare a 16 anni e 8 mesi. A settembre questo detenuto sarebbe dovuto uscire perché avrebbe scontato la sua pena interamente. È un malato terminale. Allora io dico, scusate, io sono uno di quelli, e tu lo sei bene, che per me i mafiosi devono stare al 41 bis. Però se un mafioso è malato, se un mafioso è malato e non può essere curato in carcere, è giusto che esca. Il giudice che ha deciso la schercerazione di Bonura si è limitato ad applicare la legge. La vicenda mi riporta a tutte le polemiche su Rina e Provenzano. Provenzano, uno dei grandi capi di Cosa Nostra, veniva, era una larva umana, era alimentato con un sondino nello stomaco, non capiva una mazza più, non sapeva chi era, ma perché tenerlo in carcere? Il 41 bis serve per i capi mafia che non devono comandare all'esterno e non devono fare dall'interno i capi mafia. Il diverso discorso è per Rina. Rina era lucidissimo, fino alla fine era giusto che Rina rimanesse in carcere al 41 bis perché aveva ancora la capacità di comandare. Ma se un boss è malato e sta morendo e non può essere curato in carcere, ma perché lo Stato deve essere forte con un'alarm umana e poi dimostrarsi debole con tutta una serie di detenuti eccellenti eccetera eccetera. Io credo che la macchina della giustizia sia molto complicata. Lo ripeto, il DAP è una macchina farraginosa. Abbiamo parlato del Ministro e è saltato della sua inadeguatezza. È saltato il capo del DAP Basentini, ma io credo che i problemi del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, vengano da molto lontano. Non possiamo scaricare su una persona e su un nome una situazione veramente complicata. I problemi del DAP tu te li ricordi benissimo dall'inizio e guardando retrospettivamente possiamo farci tutte e due un'analisi critica comparativa. Io li vedevo da certe parti, tu le hai viste dall'interno perché avevi partecipato anche alla ricerca e all'arresto di molte di quelle persone. Però è anche vero che i problemi del DAP cominciano quando il carcere, oltre che un luogo di detenzione, diventa un indiretto luogo di giustizia. Che cosa intendo? E guarda che non è solo per problemi di mafia. Ci sono stati addirittura casi di procure, procure della Repubblica, i cui procuratori, e te li potrei squadernare, ma li conosci benissimo, i cui procuratori si sono dati battaglia prendendo l'uno in un carcere e l'altro in altri carceri, testimoni della scorrettezza reciproca di questi procuratori. La battaglia tra le procure di Napoli e di Salerno a un certo punto si fece tutta con dei detenuti di Avellino o di Napoli che diventavano testimoni di giustizia. Quando è nel carcere, oltre che un luogo di detenzione, si continua a far vivere una giustizia susseguente, futura, all'uso di questo o di quello, sono scorrettezze, ma sono cose normali perché spesso erano gli stessi detenuti che chiamavano i magistrati dicendo mi sono ricordato una cosa che forse il dottore a lei potrebbe interessare perché quella persona lì non è proprio buona come sembra sui giornali. Allora, lì si crea un meccanismo per cui il carcere comincia a diventare un terreno, un mercato, un suc, un terreno che non può amministrare un organismo centrale, burocratico, che devono amministrare per forza solo dei magistrati. Qui te lo chiedo anche a te perché questo non è una cosa da poco, è una cosa che ha strascichi in Sicilia molto lunghi anche e su molte procure. Allora, io non ho elementi sulla cosa che hai detto, sono precisi su Napoli, Salerno, però una cosa si può dire, direttore, che dentro il carcere si misura lo stato delle tensioni delle mafie italiane. Il carcere è una sorta di terra di nessuno, una camera iperbarica, una camera di compensazione, dove noi sappiamo veramente poco di quello che succede là dentro, a parte le cose che ci vogliono far filtrare. Ma dentro le carceri, come dire, da sempre ci sono state tensioni particolari, accordi misteriosi, i visitatori che hanno fatto negoziati, la vicenda di questi giorni, quando io dico che sono molto confuso, è perché non ho tutti gli elementi che mi possano portare a formarmi un giudizio particolare. Le carceri sono un mondo oltre che complicato anche molto misterioso per noi che per fortuna non lo conosciamo fino in fondo. Le carceri sono un... pensiamo... Oggi ho scritto per Repubblica una storia una storia sul rapporto molto particolare, molto speciale che i mafiosi hanno con il carcere e il loro rapporto con l'amministrazione della giustizia. Rapporto che misura i rapporti, scusate, il gioco di parole di forze tra le mafie e lo stato italiano. Ti ricorderai il grande hotel Lucerdone. Sì, sì. Lucerdone era considerato negli anni 70 quando sentiavano le rivolte dei brigatisti rossi, dei detenuti politici in tutta Italia un carcere modello. Certo, comandavano Buscetta là dentro, Pietro Torretta, i cugini greco, i fidanzati della Renella e quindi comandavano loro. Quindi rivolte non ce n'erano. Poi c'è la cesura il 92, il 41 bis. Il 41 bis cambia tutto in quel mondo. I mafiosi vengono prelevati dagli elicotteri al Lucerdone la notte dopo l'uccisione del produttore Borsellino vengono portati nei bracci infernali di Pianosa della Sinara. Non erano abituati al carcere, tantomeno a un carcere durissimo come il 41 bis che è un carcere veramente duro, almeno sulla carta. E quindi si sono da 30 anni loro, praticamente da quasi 30 anni perché sono dal 92 sono passati praticamente quasi 30 anni 28 anni è uno dei più grandi problemi della mafia che c'è stata, la mafia delle stragi, la mafia dei corleonesi e questo benedetto trattino maledetto 41 bis. Ci siano delle tensioni in quel mondo. Hai ragione a datare questa cosa e fai benissimo a ricostruire. d'altra parte lo stai facendo anche con dei libri ma in ogni caso fai benissimo anche sul giornale a ricostruire un processo storico, un cambio di passo che c'è stato perché così tutti capiscono poi che c'è stato effettivamente un cambio di passo. Non è vero che lo Stato è rimasto sempre fermo così che è stato sempre nella stessa maniera. C'è stato questo cambio di passo che nel tuo articolo c'è e potresti anche proseguire sul 41 bis. Noi abbiamo storie anche dell'inizio drammatico scioccante di alcuni di loro del 41 bis. Hai fatto i nomi di alcuni posti terribili che furono usati anche per il terrorismo lo sai sai bene eccetera. Però io adesso sì e poi di questo dovremo parlare di questo vorrei sentire anche dei pareri politici che si parla spesso delle connivenze della politica però uno poi dovrebbe mettersi seduto a dire ma chi lo fece il 41 bis chi lo volle come si fece e fu un bene fu un male andò bene andò male questa cosa bisognerebbe ricostruirla perché è sempre stato anche questo elemento di confusione però siccome ci abbiamo poi ancora un po' di tempo io vorrei chiamarti invece sull'altro aspetto che ci ha pure confuso il caso di Matteo cosa ha confuso me e magari è diverso da quello che ha confuso te a me ha confuso il fatto che Di Matteo il procuratore Di Matteo ha freddo per la carica che ha adesso anche all'interno della magistratura ha freddo in una trasmissione completamente fuori contesto è andato dritto sul ministro su un episodio non di ora che attraverso la parola trattativa evoca una parola che si usa anche ora ma che in realtà si riferisce a due anni fa due anni fa il ministro gli avrebbe detto siccome ho visto che vengono citate vengono citate anche dal procuratore Caselli le sue dichiarazioni le cito anch'io perché una è sulla stampa di ieri mi ha colpito molto un virgolettato nel quale a correzione della trasmissione i telespettatori hanno pensato che si fossero inalberati i capi della mafia e che Buonafede si fosse messo paura per questo però a correzione di questo Di Matteo accenna proprio nella parte finale della frase della stampa al fatto che forse proprio dei suoi colleghi siano stati invece contrari a quella nomina e abbiano premuto sul ministro per dire no Di Matteo lì non è un posto dove può stare bene ecco siccome lo dice lui e lo dice anche la stampa di ieri l'avrai letta anche te non è non è un mistero e allora questo mi ha fatto pensare che questa cosa postuma diciamo molto antica ma che richiama attenzioni dentro la magistratura che ci sono sempre state caso Palamara lo dimostra la procura la nomina alla procura di Roma tormentatissima lo dimostra ci sono naturalmente tensioni dentro la magistratura allora voglio sentire la tua allora intanto caro direttore premetto una cosa io come sai sono di quei giornalisti ne abbiamo parlato ne abbiamo anche polemizzato tante volte io sono uno di quei giornalisti che è convinto che in quegli anni ci fu la trattativa non per questo sono d'accordo su quel processo che si sta celebrando a Paello nella sua totalità ma io lo so benissimo Attilio lo so benissimo perché tu leggi le sentenze e sai bene che in una sentenza d'appello c'è scritto quel processo non sarebbe dovuto mai esistere perché di quelle trattative eventuali o presunte c'era stata l'informazione di tutti e quindi questo è scritto in una sentenza io tu la conosci sai pure le pagine che ti posso citare o mandare quindi io e te su questo probabilmente siamo d'accordo detto questo ci sono cose sulle quali sono d'accordo su quel processo altre non sono d'accordo conosco il dottore Di Matteo e vi assicuro che è una persona di grande rigore di grande rigore proprio per questo mi è molto impressionato innanzitutto la telefonata nottetempo in una trasmissione televisiva secondo me quello è stato un errore ma avevo già immaginato prima di leggere il dottore Caselli stamattina sul fatto che è stata una reazione tipo cane di Pavlova alla parola trattativa trattativa che sarebbe intercorsa tra lui stesso e il ministro secondo il ministro credo che abbia come dire perso il controllo in qualche modo e abbia chiamato Giletti l'arena e lì si è innescata è partita l'avampata di questi giorni quello che capisco meno quello che capisco meno è questa ricostruzione postuma perché leggendo un pezzo di Salvo Palazzolo su Repubblica già nel 2018 un pezzo di Marco Lillo già nel 2018 sul fatto queste cose di cui stiamo parlando erano già state scritte quindi questa vampata si è inserita nel casino nel pasticcio delle scarcerazioni del coronavirus delle decisioni dei magistrati tutto questo però voglio dire una cosa mi dicono faccio un appunto che di questi 373 mafiosi scarcerati solo 3 sono al 41 bis gli altri sono in alta sicurezza quindi solo 3 al 41 bis e degli altri 193 di questi scarcerati sono in attesa di giudizio quindi senza una condanna in primo grado sono dati molto precisi che al di là della propaganda e del casino stiamo attenti poi uno uno può essere d'accordo su una cosa di fare per questo partito o altro partito però i numeri sono numeri solo 3 al 41 bis sono stati scarcerati gli altri sono in alta sicurezza e 193 in attesa di giudizio cosa voglio dire i mafiosi vogliamo dargli l'ergastolo al reato di mafia vogliamo dargli la sedia elettrica vogliamo dargli l'impiccagione l'iniezione in età letale la ghigliottina siccome tutte queste cose non ci sono ma ci sono delle leggi le leggi bisogna rispettarle io non caricherei di responsabilità nemmeno i giudici di sorveglianza lì piuttosto c'è una cosa più che il parere consultivo della procura antimafia giusto anche quello alcuni tecnici spiegano che non bisogna caricare solo su un giudice di sorveglianza la responsabilità di queste di queste decisioni sarebbe più opportuno che ci fosse un collegio quindi una decisione collegiale più serena più equilibrata insomma ci sono tante cose di cui discutere siamo partiti da di Matteo io credo che direttore ci sia molta confusione troppa gente che grida troppa gente che fa propaganda troppi lo credo pure credo la stessa cosa ti ringrazio molto per questa ricostruzione minuziosa dal punto di vista numerico perché non è numerico è un fatto di giustizia cioè è una bella differenza è 41 bis alta sorveglianza e in attesa di giudizio se noi non facciamo queste differenze sì tra i mafiosi ma anche tra i detenuti comuni anche tra i detenuti comuni noi non abbiamo fatto nessuna differenza sull'uso della giustizia quindi hai detto cose da professionista esperto l'altra cosa per cui ti ringrazio è che hai sottolineato la stessa cosa che era il mio dubbio il mandato di cattura di governo l'hai chiamato così l'abbiamo chiamato così ai tempi che ci furono però è questo che succederà per rimettere una pezza certe volte la toppa può essere peggio del buco ecco questo diciamo noi e stiamo attenti a non aumentare confusione l'ultima cosa che hai detto su Di Matteo la condivido che è quella della estemporaneità della telefonata per ricordare una cosa Caselli la giustifica con la perdita di compost come dice allora ha perso la testa perché ha sentito la trattativa è possibile però insomma Di Matteo non è uno qualsiasi come ha perso la testa ha fatto la procura di Palermo quella di Caltanissetta procuratore CSM gli abbiamo affidato gli ha affidato lo Stato responsabilità enormi io penso che il Ministro da un certo punto di vista è più giustificabile se ha una sua sprovvedutezza perché il Ministro è più nuovo di questo mestiere di quanto non lo sia Di Matteo e qui mi fermo perché altrimenti un'altra volta poi faremo qualcosa sul caso Borsellino che è una cosa pazzesca che ha attraversato la Sicilia e che vede dei protagonisti anche magistrati che hanno scritto cose ma non ne voglio parlare ora quindi ci fermiamo Attilio grazie come al solito mi pare di aver scelto bene con te come ospite perché ci hai messo con i piedi per terra grazie piedi per terra a Palermo lavora da tanti anni lì che non è proprio come lavorare a Lecco sulla mafia va bene grazie Attilio ci fermiamo TG5 naturalmente a quest'ora grazie a tutti